I tifosi bianco-celesti, eccoci di nuovo qui, portandovi le ultime notizie sul nostro amato club. Con soli tre settimane rimaste nella stagione di Serie A, il mercato dei trasferimenti della Lazio è in pieno fermento. Secondo quanto riportato da TMV, il nostro club si sta muovendo, specialmente nel reparto degli esterni, dopo la conferma dell'imminente partenza di Anderson. Inoltre, ci sono alcune incertezze sul futuro di Luis Alberto e Immobile, lasciando i tifosi nell'incertezza. Ma tranquilli, non c'è bisogno di preoccuparsi, sembra che la dirigenza stia agendo con prontezza e determinazione. Il sito sportivo ha menzionato che l'obiettivo principale di Fabiani è Birindelli, attualmente in forza al Monza, sarebbe il pezzo perfetto per adattarsi al sistema tattico di Tudor, che è il 3-4-2-1. Immaginate Birindelli con la nostra maglia, portando tutta la sua abilità e talento per rafforzare ulteriormente la nostra squadra. È entusiasmante pensare alle possibilità che potrebbe offrire alla nostra squadra. Ma ora la domanda che tutti si pongono, cosa ne pensate, tifosi laziali, di questo possibile trasferimento? Birindelli è il giocatore di cui abbiamo bisogno per spingere avanti il nostro percorso verso il successo? Lasciate le vostre opinioni nei commenti, e non dimenticatevi di iscrivervi al canale per non perdere nessun aggiornamento sulla nostra amata Lazio. Alla prossima, Forza Lazio!